Cosa? Cosa ho fatto? La prossima volta imparerai a non trofare nessuno! Ora andrà in prigione! Ah! Ciao, ciao! Signora, lei del resto! Perché? Cosa ho fatto? Perché signora, lei fa un sacco di truffe e dovrebbe andare in prigione! Pensi che vado in prigione? Adesso le prendi, signora poliziotto! Ora vedrò quando sarai duro in prigione! Sta, sarai in prigione fredda oggi! Era pare in quella calda! Amici, la prigione fredda è davvero molto fredda! Amici, qui fa molto caldo! C'è un cammino acceso e sta diventando ancora più caldo! Non posso resistere ancora a lungo! Chi sopravvive al maggior numero di sfide e resterà per l'ultimo in prigione sarà rilasciato! Forza, iniziamo la sfida, per favore! Qui c'è una ruota da fortuna! Raffario può tenere qualcosa di freddo che le fa molto bene! Oppure potrebbe ricevere qualcosa di caldo che è negativo! La stessa cosa vale per Stas! Cominciamo con Raffario, gente! Hai ottenuto la zuppa piccante, Raffario! No! Quanto è calda! Molto calda! Non solo è calda! È la zuppa più piccante del mondo, Raffario! Ah no! Cosa? Che cos'è? Non lo so! È molto piccante! È molto piccante! Oh amici, questa zuppa è la più piccante del mondo! Ora vediamo cosa farà! Amici, non voglio perdere la sfida! Voglio vincere! Vedo che Raffario se la cala! È terribile! Cosa, Raffario? La zuppa è buona? Hai intenzione di mangiarla tutta o ti arrendi? Cosa c'è che non fa, Raffario? È già finito! L'ho mangiata tutta! Ecco, tieni! Bravo, Raffario! Vedo che hai mangiato tutto! L'ho mangiata! Ho mangiato tutto! Ho finito! E ora è il turno di Stas! Finalmente, forza! Andiamo! Una bevanda e ghiacciata, Stas! Quale granita, amici? Sono in una prigione fredda e devo bere del ghiaccio! È terribile! Ecco a te tre bibite, Stas! Tre granite! Sei normale! C'è una sola granita disegnata! Non tre! Non parlare! Se non vuoi puoi rinunciare! No, non voglio perdere! Voglio vincere! Hai un minuto per bere tutte e tre! Siete pazzi! Pazzi! Questa è una truffa! Amici, non mi serve la cannuccia! È inutile! Dentro c'è ghiaccio puro! La mangerò così! Ecco la prossima! C'è il ghiaccio! Ecco la seconda! La terza è caduta, gente! Ma datemi credito per questo, per favore! Perdente! Resterai là per sempre! Non significa che ho perso! Hai perso! Hai perso! Perdente! Perdente! Mi dispiace, Stas! Ma questo non conta! Hai perso un punto! Perché non conta? E io, cavolo, voglio vincere la sfida! Non quel pazzo pelato di raffario! Che io? Vincerò questa sfida! Io uscirò di prigione e tu resterai qui per sempre! Amici, vediamo chi di noi fa più punti! Raffario, tocca di nuovo a te! Il peperoncino! No, perché? Perché sono così sfortunato! Perdente! Amici, lo preferirei io il peperoncino! È piccante, ma mi avrebbe riscaldato! Ho ancora più freddo dopo la granita! Deve mangiare tutto a raffario! Buona fortuna! Amici, questa è la più grande truffa del mondo! Come si fa a mangiare i peperoncini? Con questo caldo! Ma il conto alla rovescia è iniziata! E io devo mangiarlo! Come brucia! Stai bene? Se vuoi rinunciare, rinuncia! Puoi arrenderti e basta! Ho perso! Ho perso questo là! Ti sei arreso! Peccato, Raffario, eri molto vicino! Hai perso un punto! Amici, la vita va avanti! Capite? E io vincerò comunque questa sfida! Poliziotta, iniziamo! È il mio turno! Vediamo cosa ho segno, Stas! Oh, ho tenuto un vincelatore, tesoro! Oh my god! Non di nuovo, amici! Adesso mi congenerò ancora di più! Oh my god! Sei pronto, Stas? Sì, sono pronto! Andiamo! Dai, dai! Soffiammi un po' addosso, dai! Per favore! Basta! Non ce la faccio più! Basta! Basta! Soffiammi un po' addosso, per favore! Solo un po'! Pesiamo, Raffario! Sei di nuovo sfortunato? Ah, hai ottenuto il gelato! Che affortunato che sei! Sì! Finalmente! Gelato! Gelato! Sarò onesto con voi! Questa è una sfida molto difficile! La sfida più difficile del mondo! Qui le cose si fanno sul serio! Amici, mi sto riscaldando per facendo degli esergetti! Perché? Buon appetito, Raffario! Grazie! Finalmente, amici! Prendo il gelato! Ah! E' così buono! Am! Am! Ragazzi, ho un'idea! Per rinfrescarmi mi spalmo il gelato addosso! Am! Ah! Ah! Oh, fantastico! Sì! Oh! 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 Am! Am! Oh! 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 Perfetto! Sei pazzo, Raffario! Il gelato andava mangiato! Non puoi spalmartelo addosso! Non è una crema solare! Il gelato mi ha aiutato molto! E ora vincerò di sicuro! Oh! Che buono! Bravo, Raffario! Ora vediamo cosa ce ne sta! Dai, qualcosa di buono, per favore! Tabasco, Stas! Oh! Non è male, amici! Mi terrà caldo! Il problema è che mi brucia! Mi brucia la lingua, ma va bene così! Guarda cosa ho guardato, Stas! Oh, amici! Non so se questo è davvero una cosa buona o cattiva! Ma guardate, sta riempendo il bicchiere! Completamente! No, no! Deve essere completamente pieno! Oh! Oh, mamma mia! È incredibile! Come faccio a berlo tutto? No, no, no! Oh, no, no! Oh, no, no! Stas! Buona fortuna a te! Se vuoi uscire di qui deve ber tutto! Forza! Amici! Sono molto preoccupato, ma lo farò! Lo farò per voi, amici! E per questo iscrivetevi al canale! Guardate come bevo questo tabasco! Ah, brucia! Oh, brucia! Aiuto! Hai bevuto quasi tutto, ma non conto! Hai perso un punto! Ma perché? Sei pazzo! L'ho bevuto tutto! Ne è rimasto pochissimo questa! È una truffa, amici! Scrivete nei commenti che avrebbe dovuto contare! E non toglietemi un punto! Ah, perdente, amici! Scrivetelo nei commenti, ragazzi! Stas è un perdente! Stas è un perdente! Stas è perdendo la sfida! Ah, io sono stato! Papà! Sei tu il perdente! Hai capito? Dai, dai, dai! Sì, continuiamo la sfida! Ora è il tour di Raffario! Forza! Che sì, Raffario! Cosa? Cosa? Ali piccanti! È una truffa, amici! Non potete farlo! È una truffa! Ah, ah, ah! Raffario, devi mangiare tutto quello che c'è nel secchio! Sei pazza? Questa è una truffa! Ripeto, è una truffa! Non posso mangiarli! Ah, ah! Non posso! Non mi entrano! Mangiali o perderai! Ah! Ah, ah, ah! Ah! Oh, vieni! Ah, ah, ah! Ah, ah! Amici, mi sembra come di sentire che Raffario si stia divertendo! No, non posso! Perdo questo lato che è una truffa! È impossibile mangiare questo! Portatele via! Portatele via! Via! Non c'è problema! Come vuoi tu Raffario? Perdo e Raffario! No! Non sono un perdente! È successo e basta! Ah, 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 ah! Se solo potessi avere qualcosa di buono adesso! Tocca a testa! Per favore, dai! Un grande ghiaccio! Oh, Dio! Un enorme blocco di ghiaccio! Non di nuovo, amici! No! No! Ti sta bene così, Stas! Ti sta bene così! Ecco, Stas! Devi tenerlo in mano per un minuto! Oh, mio Dio, amici! Oh, è terribile! Oh, è un minuto! Oh, è impossibile! Ora, Raffario, tienilo tu! Vuoi tenerlo tu? Sì, sì, lasciamelo fare! Dammi, non fa molto caldo qui! No, no, ho detto! Ah, ah! Ah, ah! Brucia! Amici, fa così freddo che mi brucia la pelle! Non so come portare il ghiaccio, ma brucia! Non ce la faccio più! Oh, ah! Mi arrendo! Portalo via! Non importa! Ah, ah! Dai, tienilo, forza! Ah! Stas, come vede, non sei in forma oggi! È impossibile, è impossibile! Sono sfortunato! Sto ottenendo! Poliziotta, per favore, continui! Perché fa molto caldo qui dentro e io non ce la faccio più! Andiamo, Raffario! Monster! Monster freddo! Grazie a Dio, Monster! Dai, dai, sbrigati, per favore! Dammelo, dammelo, dammelo! Fammi aprire! Ah, ah, ah! Freddo! Ah, ah, ah! Ah, ah! Che bello! Ah, 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 ah! Oh, molto freddo! Sì! Oh, oh, oh! Ah, ah, ah! Ecco, signora poliziotta! Ho finito! Oh, che era a fare! Ora posso andare avanti, amici! Andiamo! Per favore, datemi qualcosa per riscaldarmi! Non ce la faccio più per il freddo! Vediamo, Stas! Forza la fine e ti riscaldarai! Per favore! Giacca, Stas! Puoi indossare la giacca per un minuto! Finalmente, amici! Qualcosa di buono! Mi sta salvando in questo momento! Perché stavo per arrendermi! Grazie mille, giacca! Oh, oh! Che bella! Oh, che bella sensazione, amici! Sarò sincero! Appena l'ho indossata, mi sento già meglio! Oh, finalmente! Mentre Stas si riscaldi, continuiamo con l'affario! Una stufa, Raffario! Sei impazzita? Una stufa! Una stufa qui! Fa già abbastanza caldo qui dentro! Questa è una truffa, amici! Scrivetelo nei commenti! È una truffa! Non si può fare questo tipo di sfida! È illegale! Ehi, Raffario, smettila di abbaiare come un cagnolino! Sempre a piangere e a frignare! Sempre insoddisfatto! Sei un loser! 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 Se non vuoi andare avanti, arrenditi e lascia la sfida! Ecco, dai, Raffario, divertiti! Ma io voglio vincere questa sfida! Oh, oh, oh! Fa così caldo! Non ce la faccio! Oh, oh, oh! Fa caldo! Fa caldo! Non ce la faccio! Fa caldo! Fa caldo! Ma io sono Raffario, posso sopportare tutto! Vincerò questa sfida! Ah, ah! Basta, non ce la faccio! Non ce la faccio! È finita! Basta! Ho perso questo round! Ma non ho perso la battaglia! Ora continuiamo, Stas, e vedremo! Hai capito? Ok, Raffario, hai perso un punto! Come vediamo, ci saranno battaglie serie! Amici, avrete ancora due ponci a testa! Stas, dai, tolrici la ciocca! Grazie mille, amici! È stato molto, 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 molto fantastico! Utilissimo! Vediamo che cosa hai tenuto adesso! Ti prego qualcosa di bello, per favore! Amici, sapete cosa mi aiuterebbe davvero? Se tutti voi mettereste mi piace e vi iscrivereste al nostro canale! In questo modo potrò arrivare fino alla fine e potremmo sempre fare video folli come questo! Vedete cosa stiamo facendo? È una sfida difficile quella che ci aspetta! Signora poliziotto, le dico anche a lei di iscriversi! Iscrivetevi, amici, che dire! Andiamo, andiamo, andiamo! Mi piace, mi piace! Andiamo! Gelato, Stas! Gelato? Gelato? Ancora gelato? Non lo voglio! E perché dovrebbe interessarci? Oh, ragazzi! Ad Stas, buon appetito! Ragazzi, mi sono appena scaldato! Ora mi devo congelare di nuovo! No! Non posso, posso sopportarlo! Anche io ho un gelato! Non so se ce la faccio, mi arrendo! Ti sta bene, piccolo verme! Verme? Mangia! Verme! Mi hai chiamato verme! Mi hai chiamato verme! Io non sono un verme! Hai perso! Prendi un altro punto! Non mi interessa! Non perderò! Io sono Stas, papà! Cosa ha fatto, Stas? Non parlare, verme! Tocca di nuovo a terra, faria! Happy meal! Sì, 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 sì! Happy meal! Adoro l'happy meal, amici! A te! Vediamo cosa c'è! Oh, che bell'hamburger! Oh, che regalo! Ci sono anche le patatine! Amici, non hai ricevuto qualcosa di caldo, ma di buono! Molto buono! Stas, parli volto! E di nuovo è il tuo turno! Anch'io voglio qualcosa di buono, per favore! Consigli il ghiaccio! Ghiaccio? Quale ghiaccio? Ho già mangiato un pezzo di ghiaccio! Stai per vedere una sorpresa! Non mi piacciono affatto le sorprese, amici! Stas, devi sedersi nella piscina di ghiaccio per un minuto! Amici, questo è illegale! Ma lo farò, perché non voglio perdere! Mi rimane solo un punto, quindi non ho scelta! Stai entrando nel ghiaccio! Entro in gioco! Oddio, quanto è fredda! È freddissima! È freddissima! No, ma io basta! Ma che cosa ci succede adesso? No, 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 no! Vai, 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 vai! No, signora palizziata! È fredda! Morirò, mi arrendo! Mi arrendo, non posso! Non posso! Stas ha perso, perdente! Stas, mi dispiace! Resterai impregiude per sempre! No, ragazzi! Ma che caldo! Oh mio Dio, no! No, no, non farlo! È caldo? È caldo? Ok, versiamo! Ecco, ecco, ecco! Basta, per favore! No, questa è fatta un'idea adesso! È terribile! Papà, ho freddo! Non ce la faccio più! Hai freddo? Hai freddo? Stai congelando? Ora vedrai! Ecco! Ecco! Oh no, ho freddo! Faccio la ginastica! Come avete già capito, oggi abbiamo una sfida! La piscina calda! Molto calda! E una piscina fredda! Molto fredda! E qui abbiamo una ruota della fortuna che renderà la loro vita più facile o più difficile! E perché ne abbiamo bisogno, Simon? Cosa vinceremo? La squadra che sopravviverà fino alla fine riceverà mille euro! Oh, ora fari sentito! Dobbiamo arrivare alla fine! Sì, ne vale la pena, ne vale la pena! Dai, comincia, Dimon, per favore! Bene, iniziamo! Adesso vediamo che cosa finirà nella piscina fredda! E hanno beccato una bella granita! Oh, una bevanda ghiacciata! No, 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 no! Non è giusto! Non l'hai gli altri! Noi non la vogliamo! Sì, dacela, Odisseo! Sì, ne abbiamo bisogno, per favore! Please! No! La prenderete solo se la prenderete! Prendi... Tieni, Odisseo! Amici, c'è solo... Ghiaccio! Dovete bere i vostri drink fino in fondo! Vai, Odisseo! Oh, mio Dio! Sono così fortunati! Anche io voglio un drink! È così viziosa! Ce l'abbiamo fatta! Ben fatto! E adesso vedremo quanto voi siete fortunati! Vediamo! Avete preso tabasco! Perché? Perché? Perché è un amici tabasco! È la cosa peggiore! Fa abbastanza caldo in questa piscina! Il tabasco è piccante! Significa che avremo ancora più caldo! In realtà noi abbiamo bisogno del tabasco! Perché le nostre lingue sono già di ghiaccio! Bene! Versiamo il tabasco! Io cerco di riempire i bicchieri! I bicchieri sono molto grandi! Sono un po' più di più qui! Tutto questo, amici, è tabasco puro! Tutto! Prendilo! Dobbiamo overlo tutto se ne beviamo un po'! Non vinciamo! O tutto o perdete! Scegliete! Ecco, Maria! Dobbiamo overlo tutto! Ok, forza! 3, 2, 1! Andiamo! Forza, bevete! Tutto, tutto, tutto! Bevete tutto il tabasco! Forza, forza! E' scherzo amici! E' scosta! Hanno bevuto tutto, amici! Sì! Amici, è piccantissima! I ragazzi hanno bevuto un intero bicchiere di tabasco! Siete pronti per il prossimo round? Sì! Sì! Siamo pronti! Bene! Facciamo girare la ruota! Diamo un'occhiata! Avete preso il monster! Ragazzi! Non va bene! Perché il monster deve essere bevuto freddo? Non mi importa se è freddo! Io berrò lo stesso la bevanda energetica! Sei troppo giovane! La bevo io! Va tutto bene! Sono Raffario! Solo gelarmi! Portala qui! Portala qui! Portala qui! Portala! 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 Allora Raffario, prendi il monster ghiacciato! Oh! Porta una monster anche per me! Odisseo, sei ancora piccolo! Per questo vi ho portato la fanta! Cavolo amico! Volevo bere la monster ghiacciata! E non l'ho fatta ghiacciare! Guarda com'è ghiacciata! Penso che voi lo possiate vedere! Ecco Dimon! Bevi! E hai solo 10 secondi o hai perso? Andiamo! Uno! Forza! Iniziamo! Odisseo! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! L'ho bevuta! È una truffa! Non hanno bevuto niente! Hanno rovesciato tutto! Io prendo le decisioni e questa la considero una vittoria! Sei un truffatore! Sono tutti scammer qui amici! Siete d'accordo con me? Che quello che questi ragazzi stanno facendo non è affatto giusto! Sì! 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 Non mi pentirai parlerò più tardi con te! Mi hai capito! Vediamo cosa finisce nella piscina calda! Mmm interessante! Il gelato! Sì! Il gelato! Sì! Finalmente mangeremo un gelato! Fantastico! Ecco un bel gelato per te! Oh! Solo! Solo uno! Siamo in due! Non è un problema mio! Meglio un gelato che niente! Ok Maria! Siccome sei una ragazza io rispetto le ragazze! condividerò con te! Apri la bocca! Forza! Mordi! Se non la mangiare! Non la mangiare anche tu! Maria! Mamma! Pazza! Non me la vado a mangiare! Stai facendo! Comunque amici! Andiamo avanti! Forza! Oh! Il diavolo! Che cosa significa? Spero che sia qualcosa di buono! Il diavoletto! Come fa ad essere buono? È la cosa peggiore del pianeta! Un enorme pezzo di ghiaccio! A voi! Me lo sentivo! Me lo sentivo! Dattelo a noi! Lo abbraceremo! Abbiamo bisogno di lui! Fa ancora più caldo qui dentro! Prendilo! 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 Prendiletelo! Prendiletelo! Capito! Amici! Sarò onesto con voi! Fa molto freddo qui! E sapete cosa vi chiederemo ora? Mentre stiamo congelando abbiamo bisogno del vostro sostegno! Dovete solo iscrivervi! Perché guardate i video pazzeschi che stiamo facendo! Dovete solo iscrivervi! Perché guardate i video pazzeschi che stiamo facendo! Cosa stiamo sopportando non ci posso neanche credere! È davvero difficile! Grazie per la vostra iscrizione amici! E adesso vediamo quanto sono fortunati i ragazzi nella piscina calda! Vediamo! Speriamo di ottenere qualcosa di buono! Qualcosa di buono per favore! Qualcosa di buono! Per voi il KFC amici! Oh my god! Non ci credo! Amici questa è una cosa molto cattiva! Amici qui dentro ci sono dei deliziosi croccanti e piccanti alia di KFC! Ma io le farò ancora più buone! Ci metterò sopra del tabasco! Sei pato di mostriale! Le alie sono già piccante! Perché le fai ancora più piccanti? Possiamo sopportarlo! Non ho scelta ragazzi! Siamo nel bel mezzo di una sfida! Versiamo, versiamo, versiamo! Guardate, guardate, guardate! È impossibile amici! Come facciamo a mangiarle? C'è più tabasco che alette di pollo! Guardate, guardate! È semplicemente orribile! Questo lo prendo io, Stato! Questo lo prendo io! Buona fortuna, Maria! È molto piccante! Mangio, perderemo! Quanto da masco ci hai messo? Brucia! Brucia! E ne ho mangiato solo un po'! Bene, passiamo al prossimo turno, amici! Andiamo a vedere! Avete preso il bollitore d'acqua bollante! Sì! 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 Forza, forza, forza! Portalo, portalo, portalo! Amici, guardate qui! I bollitori di acqua bollante! Ecco per voi! Andiamo! Sì! Così! Ecco, ecco, ecco così! Solo un po' di più, un po' di più, perché poca! La piscina è così grande, è solo due bollitori d'acqua! È una truffa, amici! È una truffa, è una truffa questo! Non è possibile! Ma dai! Non si fa così! No! Mi dispiace, basta! E passiamo al prossimo turno! Gira la ruota e che esca qualcosa di buono! Vediamo se sei fortunato, che ne dici? Vediamo... Il riscaldatore! Cosa? Fortunato! Sei pazzo il riscaldatore! È caldo! Noi siamo in una piscina calda, ma sei... Stavo scherzando! Vi sta bene, sfigati! Accende il riscaldamento, aspettate! Amici, Maria, spero che tu possa sopportarlo! È solo per un round, ok? Non lo proverò, Stas! Chi ti ha detto solo per un round? Fino alla fine del video! Cosa? Ecco! Che cazzo, così, amici! Come faremo ad arrivare alla fine del video? Stas, spero di non deludersi! Maria, resisti fino alla fine! Vinceremo mille euro, ok? Ok, brava! Dai, bravo, brava! Vediamo cosa abbiamo dopo! Dai! Vediamo! Soffiatore di vento! No, no, Odisseo! Si dia inizio alla festa! Vi è piaciuta la festa, eh? Non farlo mai più, Dimon! Per fortuna non abbiamo perso questa sfida! Almeno questo round! Adesso vediamo che cosa succede alla piscina calda! Che? E abbiamo i peperoncini piccanti, amici! No, non di nuovo! Maria, no! Devi mangiarlo tutto! Va bene! Stas, non riuscirò a sopportarlo! Puoi sopportarlo! Amici, vi auguro buon appetito! Maria, dobbiamo mangiarlo! È molto importante perché abbiamo davvero bisogno di questi mille euro! Va bene, va bene, Maria! Dai, andiamo! Mangiate, mangiate! Dai! Mangia! Mangia! Vai, mangia! Non lo mangerò! Preferisco perdere mille euro! No, Maria! Non uscire dalla piscina! No! Avete perso! Perdete! Cara, vuoi comprare un'altra villa a Dubai? No, un'altra villa a Dubai! Sono già stanca di andare lì! Compriamo le villa alle Maldive! Maldive! Se vuoi comprare le Maldive, compriamo le Maldive! Bene! Mi pulisca le occhiali, per favore! Certo, signora! A lei? Fatto! Grazie! Buongiorno, gente! Che caldo che fa oggi! Non dirlo a me! È ora di fare una notata battutina! È così che si inizia la giornata! Di cosa stai parlando, Dimon? Guarda come sporca l'acqua! Andiamo! L'acqua è solo acqua! Perché dici così? Stai scherzando! Vuoi che nuotiamo qui? Dai, rilassati! Che problema c'è? Guarda, è l'acqua! Cavolo di mondo! Guarda come vivono i nostri vicini! E guarda come viviamo noi qui! Vicini? Quali vicini? Fammi vedere! Sono molto ricchi! Aspetta! Lo conosco! Odizio, vieni qui! Vieni qui! Lo conosci? Come faccio a conoscere quel riccone? Sì, eri molto piccolo, ma quello è il nostro fratello scomparso! Di certo non ti ricordi di lui! Io stesso lo ricordo a malapena! E chi è quella donna accanto a lui? Credo proprio che sia sua moglie! Cavolo, cavolo, quanto è fortunato! Come sono fortunati nella vita! Non è affatto fortunato! È solo un ricco avido! Tutti i ricchi sono avidi e meschini, amico! Oh, la pensi proprio così! Sì, è sfortunato! Ha imbrogliato tutti noi per tutta la vita! Non mi interessa che abbia imbrogliato, Dimon! Ma ha una vita fantastica! Cavolo, Disseo! Sei proprio troppo giovane per rendertene conto! Comunque... Oh, Dimon, guarda! Stanno bevendo un cocktail! Anch'io voglio un cocktail! Non preoccuparti, Disseo! Preparerò due cocktail! Rilassati, guarda, andiamo, andiamo! Va bene, spero che ci prepari dei cocktail buoni! Dai, guarda! Avremo bisogno di due bottiglie! Tieni questa! Ottimo, tagliamole! Ecco qua! Così! Vieni qua! Ecco! Così! Prendiamo un po' d'acqua! Di molti piace questo! Diamo un'occhiata! Sì, il colore è fantastico! Strappiamo una foglia! Buttiamola dentro! Adesso dobbiamo mettere del ghiaccio! Prendiamo dei sassolini, così, e laviamoli! Ecco fatto! Ora li mettiamo nel cocktail! Guarda qui! Anche tu ne hai un po' addosso! Ecco fatto! Ora tocca a te! Abbiamo un super cocktail! Sei sicuro? Ma sì, amico! Rilassati! Io lo bevo tutti i giorni! Cavolo, Dimon! Non voglio un cocktail del genere! Voglio quello dei ricchi! L'oro delizioso cocktail del bicchieridò! Cosa? Stai dicendo che il mio cocktail non è buono, amica? Va bene, Dimon! Lo stavo scherzando! Sì, non è buono! Salute! Ecco, fantastico! È un cocktail molto rinfescante! Proprio quello che serve! Guarda quanti materassi gonfiabili che abbiamo! Ma ti dico la verità! Sono a stufo! Bisogno di comprarne di nuovi! Sei pazzo, Stas! Dove ne pensiamo? Dovremmo fare una nuova piscina in casa, allora! Non c'è nessun problema, tesoro! È facile da fare! Comunque vado a fare una nuottata in piscina! Vai, vai! Io vado a fare shopping da Gucci! Bene, è fantastico! Ah! Cavolo amico, che riccone! Cavolo che invidia! Anche io voglio un materasso gonfiabile! Dai, che tipo di materasso vuoi? Te lo trovo io! È facile, dai! Vieni! Sei sicuro? Un attimo solo! Ok, sto aspettando! Spero che trovi qualcosa di bello! Ragazzi, dove lo trovo un materasso gonfiabile? Cavolo ragazzi, che schifezza! Oh, mi è venuta un'idea! Potrebbe funzionare! Sono così intelligente! Eh, l'ho trovato, guarda! Oh, Dimon, che cosa hai trovato? Guarda! Siediti dentro ed ecco il tuo materassino! Sei sicuro che funzionerà? Non ti fidi di me? Entra, ti dico, dai, entra! Siediti dentro di te, davvero! Ogni tanto devi usare il cervello! Sto facendo tutto questo per te! Dai, entra, entra! Oh, che figata! Sì, è fantastico! Oh, amici, devo dirvelo! Questo è il peggior materasso del mondo! Odio questa miseria! Ehi, questa pallina è sporca! Che schifo! Noi ricchi non dovremmo avere palline sporche! Un'altra pallina sporca! Che diavolo è questo? Cosa c'è che non va, Odisseo? Oh, oh! Non lo so! Cosa è stato quello? Una specie pallina! Oh, devono essere caduti dal cielo! È sicuramente un dono di Dio, Odisseo! Sì, che figata! Senti, amico, questi ricchi sono davvero molto avidi! Sì, ma sono felici! Sì! Ehi, cameriere! Cameriere! Vieni qui, dai! E perché sei ancora qui? Non senti? Mio marito sta chiamando! Come vuole? Cosa vuole, signore? Voglio quella ciambella con fiamine laggiù! Me la porti subito! Come vuole, signore! Sto arrivando! Forza! Forza, forza! Sto arrivando! Un minuto! Vai, veloce! Opa, dai! Non questa! Adesso, adesso, solo un minuto! Ecco, signore! A lei! A lei! Ok, grazie! Desidera qualcos'altro? Vorrei che mi lasciasse in pace! Dai, vai via! Ok, me ne vado! Amico, questa piscina è terribile! Ma dai, amico! Meglio una piscina così che nessuna piscina! Capisci cosa intendo? Andiamo a vedere cosa fanno i vicini! Dai, dai, dai! Tanto non abbiamo niente da fare! Forza! Oh, il nostro fratello Ricco sta dormendo! Sì, e sua moglie si è addormentata! Lasciamoli dormire, va bene? Andiamo, dai! Sì, 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 sì! Andiamo, andiamo! Guarda, la guardia e il cameriere se sono andati! Credo che questa sia la nostra occasione per entrare! Dai, ora che dormono! Abbiamo la possibilità di entrare! Cosa? Sei pazzo? Saremo anche poveri ma siamo delle persone educate! Non come quei ricchi e quegli imbroglioni, amico! Noi non siamo così! Ma comunque, amico, voglio nuotare nella loro piscina e nuotare sulle loro matrasse gonfiabili! Va bene, sei il mio fratellino, non posso dirti di no! Forza, sali, sali! Forza, andiamo, andiamo di monno! Su, 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 su! Dai, ancora su! Forza! Sollevami, sollevami! Fantastico, amico! Oh, mio Dio, è bellissimo qui dentro! Piano, piano! Oh, che casa che hanno! Ma che cos'è questa cosa? È una pina di squalo di plastica! Possiamo farci un bello scherzo! Dai, indossala, indossala! Sei sicuro? Sì, certo, perché no? Vabbè di questi egocentrici! Sì, sono dei ricchi egocentrici, mettila! Li prenderemo in giro, io vado a nascondermi, va bene? Ottimo! Ora vado in piscina, ragazzi! Ora guardate, amici, mi trasformo uno squalo! Guardate cosa sto per fare, sarà molto divertente! Amici, mi sto nascondendo qui, i ragazzi penseranno che sia solo una fetta di pizza, sarà molto divertente! Eeeh, cos'è successo? Squalo, squalo, da dove è venuto? Aiuto! Che cosa è successo? Squalo, guardi, aiuto, aiuto! Che è successo, che è successo? Non vedi? C'è uno squalo, vai a prenderlo! Subito, vado! Aiuto, aiuto! Prendilo, prendilo, squalo, prendilo, prendilo! L'ho preso, l'ho preso! Oh, quindi è una persona? Sì, è una persona, ho un'altra cosa da fare! Cos'altro, cos'altro? Adesso lo vedrà, mi aspetti qui! No, ragazzi, mi ha preso! Ben fatto, guarda, vuol dire che non lo pago per niente! Oh, 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 che succede? Lasciami in pace, schiavo dei ricchi! Lasciami in pace! Eccone un altro! Maledetti ricchi egocentrici! Non capisco che cosa ci fate voi due nella nostra casa, sporcazioni! Siamo due fratelli, riccone! E siamo poveri perché tu hai portato via l'eredità di nostro padre! Cosa? Non ti conosco affatto! Non ho mai avuto dei fratelli loser! Neanch'io mi conosco, ma qui dietro c'è Puzza! E' meglio che vado a fare una tata in piscina! Sarò anche un senza tetto, ma non sono avido! Capito? Parlate troppo, barboni! Svergognato! E' meglio che nuozzi nella mia piscina! Oh, che bello! Cameriere, mi porti qualcosa a mangiare? Grazie mille! Buon appetito! Grazie! Sembra delizioso! E ha anche d'ora il mio colore! Sembra delizioso! Ehi tesoro, sono geloso! Ne mangi un boccone anch'io! Oh, di modo fame! Eh sì, amico! Ehi, non mangiamo da tre giorni! Date qualcosa da mangiare anche a noi, avidi! E avete fame, eh? Ho un'idea migliore! Forse vuoi guadagnare? Dovete guadagnarvi il cibo! Guadagnare? Come facciamo a guadagnare soldi? Per dieci euro devi pulire tutta la piscina! Per dieci euro pulire la piscina? Di cosa stai parlando? Sì, non ho una cattiva idea! Oh, siamo d'accordo! Ehi cameriere, porta questi poveri fratelli tutto il necessario per pulire la piscina! Così guadagneranno un po'! Ah, ah, ah! Prego, iniziate, dai! Dai, 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 inizio! Cosa c'è che non va di mondo? Non mi sento bene, mi giro la testa di SEO! Aiutami! Che schifo! C'è un barbone! Che schifo! Che schifo, barbone! Puzzi! Aiutami! Non mi sento bene! Aiutami! Cavolo, fratello! Cameriere, dove sei? Puleci la piscina, igienizzala! Te l'ho detto, te l'ho detto! Sono delle persone molto sattive! Andiamo nella nostra piscina! Andiamo subito, andiamo! Andiamo, preferisco essere un barbone per tutta la vita che essere amico di voi, idioti! Sì, sono d'accordo! Ciao, loser! Siete in arresto! Cosa? Per cosa? Cosa abbiamo fatto? Avete rubato i soldi della famiglia! Cosa? Chi? Chi ti ha dato questo? Vi metterò in prigione! Perché? Perché no, per favore! No, 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 per favore! Non volevo rubare! Non volevo! Seguitemi! Amici, adesso tutto questo è nostro! A partire a noi per legge! E se vi piace questo video, mettete mi piace! Iscrivetevi! E ci vediamo!